Presentazioni in grande stile per la nuova Pepsi Caserta che davanti a non più di 2000 persone riesce a strappare una prestazione vittoriosa contro il buon Paok Salonico. Il finale recita 70-67 frutto di un grande equilibrio per tutto l'arco dei 40 minuti. Caserta deve imparare alla svelta, migliorare sul posto basso difensivo perché Garry appare inconsistente, mentre la scommessa Olumide fa vedere cose alterne e fin quando non sarà in condizione sarà difficile giudicarlo. Senza il capitano in regia il gioco di sicuro appare più lento, i possessi diminuiscono con Kosciarek che non è una prima donna ma che sta provando a ritagliarsi un ruolo importante, mentre Bowers è l'uomo solo al comando di questa squadra. I bianconeri vivono di momenti. Detto di Garry, neanche Colussi ha convinto troppo. Arrivato per essere lo specialista con tiri e punti nelle mani dalla panchina, l'ex Pavia si fa notare per qualche recupero in difesa, mentre in attacco è abulico e svogliato. Non ha convinto neppure Dorne Camp, quasi 30 minuti in campo, davvero orribili, tirando poco e male. Anche note liete per questa serata. Un Phil Martin così intenso, pronto e capace di punire dentro e fuori aerea, non ce lo ricordavamo. A lui va l'MVP della competizione. Bowers è il vero metronomo, sia in attacco che in difesa. Risulta decisivo perché sa costruirsi i tiri ad alta percentuale ed è bravo anche a scegliere i blocchi su cui far accoppiare il lungo in difesa. E poi Jumain Jones. Gioca meno del solito, ma un plus-minus devastante. Con lui in campo, squadra più sicura e convinta, con più spazi da attaccare. Se poi lui ci aggiunge i suoi rimbalzi ad alta quota e le triple da distanza siderale e ben oltre la nuova tracciatura del campo, allora c'è da divertirsi. Il Paoc è buona squadra, ma niente di più. Col foletto grey in grande spolvero, la Juve insomma cresce e vuole scoprirsi grande ancora una volta.